Sono stato sempre appassionato di geografia, fin da quando ero bambino conoscevo tutte le capitali del mondo, tutti gli stati del mondo, sapevo dove dove stavano, con cosa confinavano e a un certo punto mi sono reso conto perché mio padre era un commerciante di mobili e a Natale gli regalavano dei vini, gli regalavano dei vini dal Veneto, dall'Abrianza, gli mandavano dei vini o piemontesi o lombardi ed era una cosa strana perché io ho capito fin da quell'epoca lì, avevo 15 anni, i primi bicchieri che uno poteva bere, poca roba chiaramente perché ero piccolo, che il vino era una geografia di sapori e che ogni posto aveva un sapore diverso, un sapore diverso perché c'era un'uva diversa e poi pensate a quell'epoca che cosa poteva essere perché i vini erano molto meno precisi di come lo sono adesso, per cui era divertente e questa cosa mi ha appassionato perché ho capito che non era semplicemente una cosa di conoscenza dei posti, poi li ho visti nella vita perché ho viaggiato tanto, però a quell'epoca era una curiosità il fatto di avere sotto mano dei vini che rappresentavano un pezzetto di una carta geografica e quindi una regione diversa, la prima bevuta di vino mi sono pure ubriacato, avevo 14 anni, a casa di amici di famiglia mi sono sentito male, è stato un disastro e lì ho cominciato a capire che cosa succedeva se uno esagerava, una volta mi ricordo all'inizio della mia storia professionale, di anni ne avrò avuti 22 o 23, andai a cena in un posto dove c'era Veronelli, Luigi Veronelli che è stato un po' il mio mentore perché mi aveva invitato lui in una trattoria romana che adesso non c'è più, si chiama da Natale e Fiorella, via Merulana e c'era la presentazione dei vini di Monsanto e io mi presi una sbronza micidiale e mi sentii male e quando mi sono sentito un po' meglio sono tornato in sale e ho chiesto a Veronelli scusa, ho detto che purtroppo ho esagerato e lui mi ha detto bene così conoscerai i tuoi limiti e mi ha detto anche quando assaggi vino non esagerare mai. Veronelli io l'ho conosciuto perché io leggevo la rivista che lui da appassionato, da giovane appassionato, avevo 22 anni appunto, era il direttore della rivista Vini e Liquori che era una rivista che non c'è più adesso ma che era la rivista di riferimento a quell'epoca per tutti quanti quelli che erano appassionati di vino. Gli scrissi una lettera perché avevo saputo che lui era laureato in filosofia, in realtà non era laureato ma comunque aveva fatto l'assistente di filosofia per il professor Barie che era un professore di filosofia morale a Milano e Veronelli era un esperto di Husserl, quindi di una serie di visioni filosofiche e siccome io ero un giovane, ancora non ero laureato in filosofia, gli scrissi una lettera dicendo ma sai io sto studiando filosofia, sto leggendo le sue cose e mi piace molto questa teoria del Cru perché appunto ero molto appassionato di geografia e quindi il fatto che un vigneto desse dei risultati differenti dal vigneto accanto, c'era una cosa che mi appassionava molto e gli scrissi questo e lui mi rispose dicendo ma allora tu sei uno che studia filosofia ma quante cose mi porti, mi fai ricordare? Allora guarda facciamo una cosa, siccome mi è piaciuta la tua lettera tu cominci a scrivere per me. Veronelli era uno che dava spazio ai giovani, questa era una cosa importante, non era un vecchio barboggio o un vecchio signore che cercava di raccontare le cose perché lui le sapeva e tu no, non aveva un rapporto come dire così pesante e sgradevole nei confronti delle persone che sapevano meno di lui, era uno che invece voleva raccontare, ogni vino per lui era un racconto, ogni produttore era un protagonista, ogni cosa che lui raccontava non era mai semplicemente la storia di un assaggio, era la storia di un contesto ed era un racconto, questa è la cosa che mi ha insegnato, cioè a raccontare il vino più che a dare delle indicazioni. Io quando do un giudizio su un vino, quando do un punteggio sono anche un po' in difficoltà, sono in imbarazzo perché questo non è che non sia utile perché poi i punteggi sono una sintesi, sono una questione pratica se vogliamo per far capire più velocemente determinate cose, ma la cosa importante è far capire il contesto, cioè chi sta facendo il vino, perché lo sta facendo, che cosa rappresenta, questa è una cosa importante, se è riuscito ad esempio, ecco il giudizio potrebbe essere questo, se un produttore è riuscito a fare quello che intendeva fare, questa è una cosa importante e lì c'entra un po' la tecnica, un po' l'interpretazione, uno può essere biologico, biodinamico, tradizionale se vogliamo, o innovativo, la cosa importante è che rappresenti esattamente il suo territorio innanzitutto, ma poi anche quello che voleva fare. Una cosa che non sa nessuno, io ho cominciato con Gambero Rosso, io non avevo rapporti con il Gambero Rosso, io ho fondato il Gambero Rosso. Allora quello che è successo con il Gambero Rosso, io avevo già nel 1986, fine 86, proprio in questi giorni, perché il Gambero Rosso esordì come insetto nel manifesto il 16 dicembre del 1986. Quindi in questo periodo qui all'epoca io e Bonilli stavamo andando per pasticcerie romane per selezionare i panettoni e con una commissione d'assaggio e poi abbiamo fatto gli spumanti. Cosa successe? Successe questo, io avevo conosciuto anni prima Edoardo Raspelli che è stato un grande critico di ristorazione e avevamo fatto una cosa insieme. Poi avevo intervistato, avevano un programma alla radio che si chiamava Viva il Vino su Radio 2 e capitò di far venire, perché era a Roma, in studio, un signore che a quell'epoca era il presidente della nobile associazione Amici del Barolo e si chiamava e si chiama Carlo Petrini. Sia Petrini che Raspelli dicono a Bonilli che voleva fare per il manifesto, quindi quotidiano comunista, voleva fare un inserto di consumi e disse a Petrini e a Raspelli, dice ma guarda c'ho tutti quanti, c'ho tutta la squadra fatta, mi manca solo uno che sia un esperto di vini e tutti e due dissero ma guarda che a Roma c'è uno bravo che fa i corsi dell'AIS, che ha collaborato con Veronelli, che si chiama Daniele Cernilli e gli dettero il mio numero di telefono e lui mi chiamò a casa dei miei, c'era mia madre che gli rispose, io avevo 31 anni e abbiamo cominciato a fare Gambero Rosso e tra l'altro ci inventammo il sistema in punteggio in centesimi dei vini sul Gambero Rosso, sul manifesto, è stata la prima pubblicazione che ha dato i punteggi in centesimi, poi l'anno dopo, insomma siccome il vino era andato bene, interessava perché Veronelli non scriveva più tanto, non c'era più nessuno che scriveva vini e proposi di fare una guida dei vini, mediando quello che aveva fatto Veronelli con Go e Miglio e con qualche idea che avevo in testa e una delle idee che avevo in testa era, ma insomma quando noi andiamo nei wine bar a bere, e all'epoca c'era a Roma il cul de sac, c'era la cavur 313 e c'era il goccetto, erano solo questi tre, non c'era molto altro, e all'epoca mi veniva in mente una bottiglia, in quanto la bevi, perché una bottiglia sono sei bicchieri, beh se il vino è molto buono e lo bevi in due, finisci la bottiglia, sono tre bicchieri a testa, e sono tanti in fin dei conti, perché bere tre bicchieri in una serata, insomma non è rischi poi di eccedere, cosa che non volevamo fare, allora se finivi la bottiglia erano tre bicchieri, se la bottiglia arrivava fino a un certo punto erano due, se uno lo assaggiava e poi diceva vabbè cambio bottiglia era uno, e se appena l'avevi assaggiato diceva vabbè cambia tutto, era zero, e questo era il sistema di valutazione della prima guida del gambero rosso, non era una cosa adesso io attraverso l'analisi sensoriale stabilisco se questo e tre, no, era il fatto che finivi la bottiglia, ma pensa a quanto era moderno io partecipo al decanter world wine award a Londra, io sono the italian, loro sono molto più compassati e hanno dei parametri molto precisi, per cui un vino piccolo, un vino che non è classificabile ma è identificabile in un ambito, lo vedono con qualche perplessità, acqua, loro catalogano i vini e li collocano rispetto a un loro punto di vista che è un punto di vista a metà tra l'aspetto organolettico e metà l'aspetto commerciale, quindi non è di pancia, non è per niente di pancia, Parker tira una brutta notizia, si è ritirato due anni fa, quindi lui non assaggia più niente, però Parker ha fatto esattamente quello che dici tu, se c'è uno di pancia è stato Parker, perché Parker ha raccontato i vini che piacevano a lui, a prescindere, poi non ti può piacere il tipo di gusto di Parker, ma quello è il gusto di Parker, se tu ti ci ritrovi, lui era un degustatore, probabilmente amprivello è ancora, un degustatore micidiale perché conosceva tutti i vini del mondo, però li interpretava con il suo gusto personale. Io sono laureato in filosofia, per cui quando mi parlano di oggettivo sono molto perplesso, perché l'oggettività non è di questo mondo, quindi se tu parli di trasparenza, di onestà intellettuale, di parametri che vengono valutati, quindi tutti quanti, come dire, ci diamo una serie di elementi da valutare e tutti quanti valutiamo quelli, ma questo non vuol dire oggettività, questo vuol dire avere un metodo sostanzialmente, il metodo scientifico non è mai oggettivo, la scienza non è metafisica, la scienza, Popper diceva, la vera scienza è falsificabile, che vuol dire che una scoperta ulteriore falsifica tutto ciò che c'era stato precedentemente, quindi non dobbiamo avere una visione metafisica o mistica o ideologica della scienza, la scienza è sperimentale ed è una sperimentazione, se vogliamo, guidata o ragionata, ma non è la verità assoluta, non è mai la verità assoluta, la verità assoluta è metafisica, non è scientifica, la degustazione è un fatto che mette insieme alcuni aspetti che sono sicuramente emozionali, emotivi, ma non possono essere soltanto l'espressione della propria emotività, perché questo lascia il tempo che trova, deve essere la capacità di interpretare la propria emotività rispetto a una serie di altri elementi, che sono gli elementi dell'origine di un vino, che sono gli elementi del produttore, i produttori non sono dei personaggi avulsi dalla realtà, sono persone che zappano la terra, che fanno viticoltura e quindi cercano di interpretare il loro mondo, il loro habitat, attraverso quello che fanno. Perché è cambiata la proprietà e a un certo punto non mi sono più sentito rappresentato, ma queste sono cose diverse. In un momento in cui potevo avere un potere personale e una cosa ho detto non va bene, non mi piace più e me ne sono andato. Me ne sono andato non facendo polemiche, non dicendo mai una parola storta nei confronti del gambero, sono scelte di carattere professionale e sono state delle scelte determinate da quello che volevano fare i nuovi produttori del gambero, a me non mi convinceva e loro avevano tutto il diritto di farlo, però non con me. Tutto qua. Ho rinunciato a un posto fisso da giornalista professionista direttore del gambero rosso con uno stipendio e mi sono messo in gioco e avevo 56 anni, dieci anni fa. Non lo so quanti lo avrebbero fatto. Qualcuno che è rimasto al gambero non l'ha fatto. Non ti sei pentito da come ne parli? No, per carità. Sono molto contento di averlo fatto perché io faccio quello che voglio oggi e sono libero di fare quello che voglio. Non ho nessuno che mi dice quello che devo fare e al gambero finché ci sono stato nessuno mi ha detto quello che dovevo fare. Quindi quando ho capito che probabilmente diventavo un'azienda diversa, con un management diverso, con dei sistemi differenti, con tutto il diritto di farlo, però non era più per me. Tutto qua. Devo dire che non è stato semplice perché a 56 anni rinventarsi la vita non è una cosa facile perché ero già vecchietto, figurati adesso. Quale era il problema? Il problema era quello di, che ne so, la giovane produttrice che ti faceva gli occhi dolci, oppure quello che ti passava, che ne so, i soldi. Tu pensa che una volta Gigi Piumatti, che era il mio co-equipie per Slow Food, mi lo raccontò, mi diceva è arrivata una busta da parte di un produttore, ho visto che era pesante, ma l'ho buttata da una parte e non sapevo cosa c'era. C'era un pacchettino, ho detto vabbè apritelo a quelli della redazione di Slow Food. Dentro c'era un Rolex. Lui gliel'ha rimandato indietro. Ma guardate che queste cose qui erano cose normali, noi abbiamo sempre, io ho 66 anni, vivo ancora di lavoro, se avessi voluto all'epoca fare carne di porco di queste cose qua, probabilmente ci avrei qualche villa al mare. Forse non l'ho fatto, chi lo sa. Poi è chiaro che le case editrici vivono con tutta la trasparenza del mondo di alcune attività che sono attività promozionali, questo è ovvio. facciamo le manifestazioni, quest'anno siamo riusciti a farle, le fa Franco Ricci, le fa Slow Food, le fa Wine Spectator, le fanno tutti. Ma questo basta dichiarare cosa fai e poi francamente se io faccio una manifestazione con 200 produttori, non è che mi faccio corrompere da uno che mi dà 1000 euro per un'attività generale e non le prendo io i soldi, li prende un'azienda che comunque ha dei dipendenti, ha delle spese fisse, dobbiamo pagare le tasse ed è tutto quanto la luce del sole. Qual è la corruzione? Dov'è la corruzione? Poi nessuno ha mai potuto dimostrare questo, sono chiacchiere e distintivo. Dopodiché qualche volta se qualcuno me lo dice in faccia io lo querelo anche. Sai che vuol dire snob? Vuol dire sine nobilitate, quindi vuol dire che erano i parvenus, gli snob. Quindi non è snob, è una visione aristocratica del vino, che però è il contrario di snob se vuoi. Però la visione aristocratica è una visione respingente, cioè o tu sai o tu non sei in grado di entrare nel nostro mondo. Questo è un rischio. Parker da questo punto di vista è stato molto democratico, perché ha avvicinato un sacco di gente che magari non avrebbe mai immaginato di avvicinarsi al vino. Ha un mondo che magari lo ha fatto in maniera qualche volta discutibile. Noi eravamo giovani giornalisti, noi volevamo divulgare. Noi siamo stati quelli che hanno cercato di cambiare il linguaggio e secondo me se c'è un limite nella sommelieria italiana è quello di essere un pochino ingessata. Ed esistono sai in inciociaro sommelier, sommelier, anzi sommelier vuol dire sono meglio io. E questa cosa qua secondo me va evitata. Ma il problema fondamentale di questa cosa qui è cercare una quadra fra l'aspetto tecnico e l'aspetto divulgativo. Allora il ruolo di chi fa le guide, di chi fa la critica, di chi fa comunicazione su queste cose qui, è proprio quello di mettere insieme questi due aspetti. Nel vino dobbiamo fare questo, dobbiamo evitare di essere chierici e invece essere laici e divulgatori. Dobbiamo essere sorridenti e far capire alle persone quello che diciamo. Perché se io uso un termine non lo posso utilizzare in maniera gergale o in maniera incomprensibile o in maniera troppo di pancia. Questa è la cosa importante. Dobbiamo farci capire di più e dobbiamo far innamorare, come ha fatto Veronelli nei miei confronti e nei confronti di migliaia di persone a quell'epoca, dobbiamo fare innamorare del vino le persone che si vogliono occupare di vino e che vogliono avvicinarsi senza essere respinte. Questa è la cosa importante da fare e da dire. Le guide se servono a questo vanno bene, se non servono a questo non vanno bene. Semplicemente non è un problema di giudizi, di punteggi, è un problema di approccio e di approccio comunicativo. Se il giudizio è una sintesi di quello che vuoi dire e ti aiuta a far capire, va bene. Se invece non funziona da questo punto di vista, è soltanto una petizione di principio oppure il fatto di far capire che tu sei tanto bravo e gli altri no, non funziona. Tutto qua. Il suono, il timbro, uno è un violino e l'altro è un violoncello. Allora queste sono le cose da capire. Non esiste un modo unico per interpretare, sarebbe una cosa noiosissima, no? Cioè invece il fatto di in qualche modo provare a interpretare quel produttore lì che sta in quella zona, che è in quella situazione là, come ha reso il suo vino? È riuscito a rendere? Se io trovo a Castelnuovo Berardenga un vino che mi ricorda Radda, c'è qualcosa che non va e il contrario è uguale, no? Cioè se io a Montalcino c'è Biondi Santi che è una zona fredda, le Potazzine che è una zona fredda, Marroneto che è una zona fredda, saranno diversi da Coldorcia, da Argiano o da Lisini, no? Che sono invece a Sant'Angelo in Colle che è una zona più calda. Allora provo a vedere come queste cose sono interpretate. Ma questa è chiaramente una cosa da appassionati, esperti o quello che vuoi. La cosa che va, come dire, sfaccettata, che va spiegata è che non tutti i vini sono la stessa cosa. Ma io Soldera l'ho conosciuto molto bene. Beh, eravamo amici, abbiamo litigato, quindi poi non ci siamo più parlati per tanti anni. Ma credo che il primo articolo su Soldera l'abbia scritto io. Quindi io mi ricordo il Soldera da quando ha cominciato. Il suo primo Brunello è stato il 78, poi il 79 è stato il primo buono. Poi ne ha fatti alcuni, altri meno. Però non glielo potevi dire. Perché Soldera era uno che pensava di aver inventato il vino. Per carità non c'è più. Gli ho voluto molto bene e lui ne ha voluto a me per un certo periodo di tempo. Poi abbiamo rotto i rapporti e non ho mai più parlato di lui e lui non ha mai più parlato di me. Perché in rispetto di un'antica amicizia e di una litigata su elementi profondi, molto seri. Quindi non voglio commentare. Ma Soldera secondo me non è stato un genio. Lui ha interpretato se stesso e il suo percorso. È un'altra cosa. Il genio è stato Franco Biondi Santi. La famiglia Biondi Santi è stata una leggenda. Franco Biondi Santi e suo papà Tancredi sono stati quelli che hanno sdoganato il vino italiano come vino di alta qualità e di alto prezzo soprattutto a livello mondiale. Cioè i primi vini di Biondi Santi sono stati i primi vini che costavano quanto i grandi Bordeaux. Ed è stato il primo a farlo. Il Tignanello nasce, nelle intenzioni di Piero Antinori e di Giacomo Tacchis, per essere la versione chiantigiana e più moderna del Brunello di Montalcino di Biondi Santi. Perché in quel momento, voi dovete immaginare che il vino italiano fino agli anni 80 era un vino per poveracci. C'erano pochissimi vini importanti, pochissimi vini che riuscivano ad andare nel mondo con dignità. Il resto era roba da quattro soldi. I francesi erano su un altro livello perché erano partiti prima, perché avevano una consapevolezza anche di produzione che era diversa. Noi eravamo, il vino era una roba da commodity, una roba da, come dire, era vino. Non era il frascate, il Brunello o il Collio. Era vino bianco, vino rosso. Punto. Era vino sfuso nella stragrande maggioranza della produzione. Guardate che fino agli anni 90, 90 stiamo parlando, quindi 30 anni fa, due terzi del vino italiano era vino sfuso. Due terzi. Quello imbottigliato era roba per ricchi. Il vino sfuso era roba come dire che si comprava, io ci andavo a comprare il vino sfuso nell'osteria sotto casa dei miei genitori con i bottiglioni e me lo davano sfuso. Erano tutti orange i bianchi perché non c'erano le presse orizzontali e quindi c'era la fermentazione sulle bucce. Quindi i vini di Castelli Romani erano orange wines. Il problema era questo, come fare in qualche modo a nobilitare, tra virgolette, una produzione agricola, una produzione vitivinicola che in qualche modo era determinante per rappresentare un territorio, un'idea di produzione. A me piacciono alcune cose, anche degli orange. Che ne so, la ribolla di Gravner è uno dei punti di riferimento della mia vita, ma perché conosco Iosco all'81 e quindi l'ho seguito in tutto il suo percorso, qualche volta non capendolo addirittura e mi dispiace. E' quando ha cominciato a fare le cose macerate senza anfore perché aveva dei vini, sai che l'anfora è una barrique senza legno perché ha microossigenazione l'anfora, perché fa passare la... allora lui faceva, ma perché aveva ragione lui, lui faceva le macerazioni però poi le metteva in botte, quindi in una situazione un pochino più, fino al 97, un pochino più riducente. Quando ha cominciato a usare le anfore i vini sono esplosi perché riusciva ad avere una polimerizzazione della parte fenolica bianca che era molto più precisa e a un certo punto mi si è aperto il mondo. Per due o tre anni non l'ho capito perché faceva dei vini che erano un po' duri, un po' austeri. Lui è uno austero e quindi ci sta, però poi ha capito perché poi Iosco è uno che il vino lo sa fare, a prescindere da tutto. Io dico sempre che è come Picasso, che ha fatto le Demoiselle d'Avignon, ma poteva dipingere come Michelangelo e lo ha fatto nel periodo blu e rosa, figuriamoci, ha fatto il figurativo ed era uno dei più bravi del mondo. Quindi Grafner è come Picasso, però devi capirlo, non bisogna essere dei tifosi di un produttore, devi capire cosa devi fare. Soldera era uno di questi, anche se secondo me peccava qualche volta proprio nel modo di trasformare. Perché lui pensava che facesse, lui faceva il vino migliore del mondo e gli altri erano tutti veleni. Questo era la cosa che ci ha fatto litigare. Cioè tu non puoi dire che esiste solo Grafner, esiste solo il Monfortino e il resto non si può bere, oltre i tuoi chiaramente. Non si può, non si può perché vuol dire non rispettare tutti gli altri, non rispettare dei produttori meravigliosi come Zidaric, Skerk, come Podversic nel mondo dei macerati, ma come Sassicaia, ma come Giacosa, ma come tanti altri produttori che sono Bartolo Mascarello o Maria Teresa adesso, che è più brava di Bartolo, o Valentini. Cioè anche se tu sei su un livello di estrema rigorosità sotto certi aspetti, non puoi disconoscere gli altri. Questo era il problema. Detto da una persona che veniva, perché Gianfranco Soldera era un broker assicurativo, non era un viticoltore, un vignaiolo. Quindi è venuto da questo mondo qui, che non vuol dire niente. Uno può essere bravissimo facendo anche altro e occupandosi in maniera intelligente, come ha fatto lui per tanti anni, però non puoi essere trancian nei confronti degli altri che magari, come dire, sono meno colti, meno consapevoli sotto certi aspetti, ma anche molto più, come dire, presi dalla loro tradizione. Gli internazionali quasi non esistono, tranne che in alcune zone dove sono diventati tradizionali. Nelle osterie friulane chiedi un taiut rosso, 9 su 10 è un merlot. Allora è questa la storia, dobbiamo demonizzare per motivi ideologici delle tradizioni che ci sono da più di cent'anni. Non saranno tradizionali, ma guarda che tanti vitigni non sono autoctoni, vuol dire nati in quel luogo. Tutte le malvasie sono greche. Perché la biodinamica viene da una visione filosofica della viticoltura e della vita, direi, perché Rudolf Steiner è stato un filosofo, era uno nel cerchio magico di Nietzsche ed è stato uno che ha ipotizzato determinate cose. Poi a Steiner non piaceva tanto il vino, anzi tutto ciò che era alcolico non è che gli piacesse molto. Quindi non bisogna tirarlo per la giacchetta, secondo me, e bisogna capire che cosa significa. Steiner è stato anche un maestro massone, cioè aveva una visione del mondo che era anche simbolica. Determinate cose vanno analizzate così. Detto questo, io non credo che ci sia nessuna dicotomia, ci debba essere invece un incontro su delle cose ragionevoli. Ora, che la sostenibilità ambientale sia una delle cose che dovremo affrontare, credo che sia fuori discussione. Quindi se la biodinamica fa parte di questo, come fa parte di questo, non può che essere un aspetto positivo. Poi, se uno si difende dietro la biodinamica, la cosiddetta naturalità, per fare dei vini che non vanno bene, che non sono buoni, se io non uso la solforosa per niente e poi ho la produzione nel vino di istamine o di ammine biogene, che fanno venire mal di testa anche peggio della solforosa, come dire, a Napoli dicono la pezza è peggio per Tuso, perché io non ce l'ho per niente, anzi, contro i biodinamici, contro i produttori cosiddetti naturali. A patto che facciano le cose con criterio. Se il vino ti diverte ancora a berlo, mi sembra di sì. Assolutamente, altrimenti la mia è la storia di una grande passione, non è la storia di un arcigno giudice. Non hai intellettualizzato così tanto il vino, ancora? Ma che scherziamo? Il vino non è da intellettualizzare. Io sono un professore delle medie. Io ho cominciato facendo lettere alle media da Riccia e quello era il mio mestiere. Quindi io sono una persona molto più semplice di quello che si può immaginare. Sono uno che ha avuto a che fare col popolo ero, te lo so ditto che non so studiato, che era il modo di rapportarsi. Io ho fatto il tempo prolungato, sono stato in mensa con i ragazzi, ho fatto quello che potevo fare e sono questa roba qua. Non sono uno che assaggia il vino e adesso ti dico che cosa devi pensare, cosa devi dire, se non la pensi come me sei scemo. Anzi, siamo quello che siamo, non è che siamo dei geni. Parliamo di vino, poca roba. Non stiamo parlando delle sorti dell'umanità. In questo momento prendersi troppo sul serio mi sembra paradossale. Quindi stiamo nei nostri stracci e cerchiamo di andare avanti. Allora, ricordati una cosa, che questa è una cosa da salti in banchi, non è una cosa da assaggiatore seri. Poi tra amici uno lo fa, ma non è vero, ne sbaglio più di quelli che indovino. Però ricordati che gli Harlem Globetrotters non hanno mai partecipato all'NBA. Come mai? Questo è una cosa che non è il fatto di analizzare e di indovinare un vino, la cosa importante. Quello ti distrae e basta. La cosa che lo puoi fare per gioco, ma è un gioco, la vera capacità di un assaggiatore è quello di collocare un vino in un ambito. È quello di capire se l'aspetto enologico è stato, è un buon aspetto enologico. E guarda, non c'entra che sia cosiddetto naturale, convenzionale o quello che vuoi. È semplicemente che un vino deve rappresentare una sua zona. Se lo sai prima è meglio, lo puoi anche indovinare, ma fondamentalmente. Sentire se un tannino è amaro o no, se una volatile è eccessiva, se quel vino è piacevole da bere, ne berresti un altro bicchiere, come i tre bicchieri di una volta. Queste sono le cose importanti da capire. Quindi indovinare i vini è una roba da salti in banca, da pagliacci, non da persone serie. Poi uno lo può anche fare per gioco, ma come per gioco ogni tanto facciamo i pagliacci. Qual è il vino che ti è piaciuto di più? Quello che ancora non ho bevuto. Ah, il secondo? Non lo so, è quello dopo. Non lo so, è quello dopo.